Dal primo libro dei re, in quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse signore mio Dio tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni né hai domandato per te ricchezza né hai domandato la vita dei tuoi nemici ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Quanto amo la tua legge Signore. La mia parte è Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca. Più di mille pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge Signore. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina. Dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge Signore. Dalla lettera di San Polo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Perché egli sia il primo genito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla, di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi e dei buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero, sì. Ed egli disse loro, Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa, che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Grazie. 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 Grazie.